Musica Essere e non apparire, vestire e sentirsi motociclisti dentro e fuori senza l'eccesso di un abbigliamento ingombrante e a volte troppo tecnico. Genuine Bike è l'idea nata da ECMA in collaborazione con l'azienda italiana Holy Freedom e il suo ideatore Arnaldo Upali. Noi come Holy Freedom abbiamo iniziato 5 anni fa un percorso per creare un prodotto che possa mettere chiunque, che ha la passione per la moto, ma che ha il piacere di mettere senza sembrare fuori luogo, anche in circostanze come il sabato sera in centro. Un abbigliamento quindi che rispecchia lo spirito, il mood del mondo moto moderno. Quindi un marchio con delle grafiche non troppo eccessive, ma che si possono portare tutti i giorni, testimoniando a chi hai davanti che hai una passione dentro. I richiami ai Fabulous 50s, 60s, con ciopera e pin-up protagoniste, è evidente, almeno quanto il glitter che veste casche particolari. Parola di Genuine Bike. Con ECMA è nato un bellissimo rapporto perché noi come marchio legato al mondo biker abbiamo conosciuto Pier, il presidente, e la realtà ECMA come espositori. Abbiamo detto perché non unire le forze e calcare ancora di più la mano su quello che è il mondo del custom. Ne è nato un prodotto dove noi seguiamo tutta la parte legata alla produzione, ma veniamo supportati anche con una bella idea di integrazione e di commistione di idee da grafiche che vengono realizzate dai più bravi pinstriper che ci sono attualmente in Italia e in Europa. Il lancio l'abbiamo fatto qui in Fiera e la linea si potrà trovare dalla settimana prossima sul nostro sito holyfreedomshop.com